Tutti andiamo a scoprire insieme il TIRUS, siamo a Terni, il TIRUS è la stacqua, se vogliamo con il simbolo della città si trova in questo splendido palazzo che è Palazzo Spada, il palazzo dove ha la sede il comune di Perni e quindi è qui che nasce e si decide lo sviluppo di tutta la città andiamo a scoprire il TIRUS che è la statua che avete visto su Rai 1 il giorno di Capodanno eccola qua con Emanuele Aureli all'anno che verrà in quel piccolo filmato della regione dell'Umbria e della città di Terni questa è la statua del TIRUS, è una scultura per meglio dire il suo ricordo qui c'è la sua storia, quindi è visitabilissima all'interno di Palazzo Spada vedete questa specie di drago, simbolo della città città basata sul drago, la città di Terni con la scritta in basso, con le scritte in basso si trova appunto in questo palazzo che è un palazzo storico appunto Palazzo Spada, il palazzo comunale appunto della città della sede del comune ed ecco a voi il TIRUS il simbolo, lo stemma se vogliamo l'emblema della città di Terni che avete potuto già osservare in Mondovisione all'anno che verrà Su Reiu, la nostra diga a votare